Secondo quanto riferito, il principe di Galles è arrabbiato per il continuo accordo di suo fratello con il gigante dello streaming, a poche settimane dal rilascio dell'ultima stagione di The Crown, secondo quanto riferito, i veri pensieri del principe William sul lucroso accordo del principe Ferri con Netflix, sono stati messi a nudo da un amico dell'erede al trono. Il duca di Sussex ha stretto un accordo multimilionario con il colosso dello streaming nel 2020, che ha mandato in onda la sua serie di documentari Ferri Megan, e sta preparando l'uscita dell'ultima stagione di The Crown. Ferri ha già reso noti i suoi sentimenti per The Crown, un episodio del quale si dice includa il fantasma di Diana, principessa del Galles, dicendo ad Elisabetta II che potrebbe essere il momento per lei di apprendere in seguito all'incidente automobilistico a Parigi, dove lei morì nel 1997. Il punto di vista di William sul film di successo reale è meno noto. Anche se si dice che un amico del principe abbia detto a The Daily Beast di essere disgustato dal fatto che sua madre appaia come un fantasma. L'amico di William, ha detto alla pubblicazione. È incredibilmente doloroso vedere sua madre sfruttata più e più volte in questo modo pacchiano da Netflix. Non lo guarderà, ma ne sarà totalmente disgustato.